Una segnalazione anche per aggiornare il sempre più affollato panorama di talentuosi chitarristi sardi che fanno breccia anche oltreoceano. Roberto Diana è di Luras, una proficua collaborazione anni fa con l'oristanese Marco Pinna, ora Nashville, e ora una sua esperienza in solitario nei club di Los Angeles, come il mitico Whiskey o Go Go. Lee ha catturato i suoni live di una sua personale cifra stilistica che strizza all'occhio la Sardegna, ma raffina acrobatici un treccio sulle corde tirando fuori dallo strumento perfino un'anima percussiva.